Presentata oggi a Pordenone, Mettiti nelle mie scarpe, un'installazione esperienziale riadattata e realizzata in Italia da Fondazione Empatia Milano per celebrare il trentennale di cooperativa Itaca. All'ex convento di San Francesco, dal 28 al 30 dicembre, sarà possibile ascoltare e vivere le storie degli altri indossando le loro scarpe. Un'occasione per tutti di mettersi nei panni di un'altra persona, camminare realmente nelle sue scarpe, provare le sue emozioni, sogni, speranze e sviluppare l'empatia come veicolo di conoscenze e di attività. Il Natale a Pordenone è fatto di tante cose, non ci sono solo musica e casette, c'è il servizio di babysitteraggio, gli eventi per bambini in piazza Risorgimento, il Natale solidale che abbiamo fatto qualche settimana fa, i presepi. Ci sembrava coerente aggiungere questa iniziativa di Itaca che festeggia i trent'anni perché è un modo intelligente attraverso un format, un evento per immedesimarsi veramente nelle altre persone. Io credo che la solidarietà si esprima in tante forme e credo anche che la prima solidarietà a cui dobbiamo andare incontro è quella dei nostri cari, dei nostri vicini, dei nostri parenti, magari una mamma che sta male, un fratello che ha bisogno di aiuto. Noi stiamo celebrando i trent'anni di Itaca, abbiamo deciso di utilizzare un modo molto originale, diverso, appunto non autocelebrativo ma che fosse raccontare storie che quotidianamente Itaca nella sua attività incontra. Il modo per raccontarlo è stato quello dell'empatia, di mettere in raccordo le persone, i cittadini di Pordenone che vorranno fare questa esperienza con persone che hanno avuto delle difficoltà, delle fatiche, dei fallimenti, dei riscatti. Entreranno le persone, i cittadini entreranno nell'ex convento di San Francesco dove è allestito un negozio di scarpe, però sono scarpe speciali, sono scarpe delle persone che raccontano la propria storia, quindi indosseranno una cuffia e ascolteranno in dieci minuti la storia di queste persone. È un modo per entrare nella pelle, nelle scarpe, nei panni delle persone capire che cosa è e che cosa noi quotidianamente facciamo.